Ciao belli, domenica 15 marzo 2020, situazione coronavirus, non ne so un cazzo, non so niente, la televisione è spenta e quindi non la guardo e non me ne frega proprio niente perché non mi lascio terrorizzare, non mi lascio influenzare, condizionare, anche se però ho capito la situazione, so che ci sono contagiati, ci sono malati, ci sono morti, ci sono anche guariti, tutto questo lo so perché poi alla fine diventa tutto conseguenziale. Sto in casa, mi faccio i cazzi miei, magari faccio musica, ho accordato la chitarra a 432 hertz e se volete qui sotto vi metto il link a un video che fa sentire le sei note della chitarra accordate a 432 hertz in modo che anche voi potete accordarvi la chitarra a 432 hertz e connettervi così con questa fonte di informazione che è Gaia, il mondo su cui viviamo e poi ci ragioniamo su come è fatto, piatto, tondo, quadrato, a ciambella, a sfogliatella, cavo, a piccia, ci discutiamo su come è fatto, intanto per il momento cerchiamo di metterci all'ascolto. Allora stamattina così condividendo con una con un'amica che mi aveva fatto una domanda su quale potesse essere la pietra che può favorire di più la connessione con gli angeli, ho dato una risposta che magari vi copio e incollo qui nei commenti nella descrizione del video così per darvi un po' di consapevolezza in più, praticamente la risposta dice che considero gli angeli come le stelle e la connessione con loro è una cosa già stabilita fin da quando ancora non eravamo nati e magari con una stella in particolare che noi dovremmo cercare di individuare e quando l'abbiamo individuata capiremo che era lei che ci stava che ci stava cercando, no che ci stava cercando no perché sapeva benissimo dove siamo però era lei che stava che ci stava chiamando ecco e così come le pietre quando vi trovate davanti delle pietre magari di diversi tipi andate verso una e la toccate e non vi rendete conto che quella pietra vi ha chiamati i minerali, le pietre, le pietre sapete cristalloterapia. Allora in questa mia risposta appunto dico che comunque la prima cosa da fare per canalizzare le energie degli angeli è mettersi in contatto con gli angeli quindi se identifichiamo nelle stelle gli angeli che poi alla fine in quello che potrebbe essere il nostro contesto di vita è ipoteticamente la condizione angelica più più bella che potremmo immaginare, le stelle sono gli angeli ok? E quindi se vogliamo entrare in contatto con loro la prima cosa che dovremmo fare è smettere di ignorarle perché se insomma camminiamo di notte nemmeno ci rendiamo conto che sopra le nostre teste ci sono le stelle. Magari salutarle con ampi gesti con le braccia finché loro che ci stanno guardando ci vedano considerandole degli esseri senzienti con una coscienza molto più grande della nostra e poi magari cercare di individuare una di queste stelle e dire ecco quella è la mia e chissà che cosa ti ha fatto dire che proprio quella è che le coincidenze non esistono giusto? E a questo punto individuare la pietra, la pietra che poi alla fine sarà la metista perché parlo della ghiandola pineale perché a questo punto quella che favorisce la connessione il terzo occhio che ho voluto anche dire che è anche l'orecchio, il terzo occhio è il terzo orecchio perché la pineale, la ghiandola pineale è sia il terzo occhio che il terzo orecchio ci consente una connessione perché è quello lo strumento di connessione e in sostanza quella che favorisce questa connessione salta fuori che è la metista in generale perché è la pietra viola che è legata al sesto chakra che è appunto il terzo occhio e poi invece ci potrebbe essere se vogliamo andare in una pietra più particolare la sungite. Ma la cosa che volevo cercare di comunicare attraverso questo messaggio così un po' arzigogolato, a me piace fare qualche volta dei voli pindarici però sono abbastanza bravo a riprendere l'aquidoni e a riportarlo giù. Ecco la cosa che volevo cercare di far passare è proprio il fatto che abbiamo veramente bisogno di imparare ad ascoltare il mondo in cui viviamo e tornando a quello che dicevo prima piatto tondo quadrato a pizza a ciambella con il buco senza il buco insomma che impariamo ad ascoltarlo impariamo a guardarlo tanto per cominciare perché se lo guardiamo magari determinate cose che vengono descritte dalla scienza e dallo scientismo, dalle teorie scientiste e liocentriste magari non ci tornano determinate cose proprio all'osservazione, allo sguardo e poi magari se lo ascoltiamo ci rendiamo conto che sta comunicando qualcosa perché vibra. Allora la frequenza di Schumann è una frequenza che è stata misurata perché oggi ci sono gli strumenti per poterlo fare è circa di 8 hertz e è una vibrazione che può portarci consapevolezza perché contiene un messaggio quel messaggio che poi sta in quelle frequenze che salgono nelle ottave e arrivano poi alla musica accordata a 432 hertz per cui riporto quello che ho detto all'inizio vi metterò qui sotto il link di un video dove potete ascoltare le sei corde della chitarra con il la accordato a 432 hertz e quindi potrete accordare le chitarre, le vostre chitarre, a 432 hertz e a questo punto invece di dirvi suonate vi dico risonate 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 e state in casa che almeno vi divertite un po'. Ciao!